Vetti ma poco, ma poco, ma poco Furia Il backpack LIt's the price It's my problem It's my problem It's my problem Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 , 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 ,, ,, ,, ,, ,, ,, , ,, ,, ,, , , ,, ,, ,, ,,,, ,,, ,, ,, ,. ,... ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , la presenza maio di te declari te seigneur accidente e l'ordine sottotitoli per tirer seigneur fettila lelo e sala musica o nome di jesu l'espeuta p accompagné chacun de nous au nom de jesu nous avessi prier à me sobe tenuza ma boko ah 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 merci mes frères et sertes amba pour un boulot nous partent m coincide à l'amorandanga en direct joie la numéro 9 0 0 33 7 662 7 40 0 2 c'est votre frère Père Conde, Israele, sacerdote e ratarate. Zamba, non mi ha detto. Il messaggio è a voi coser e non mi ha detto. Tu as visto in Paris, in America. Zamba, non mi ha detto. Ma come non si è in Congo, in Africa, in Italia. Non si è in Italia, non si è in Italia. Zamba, non si è in Italia, non si è in Italia. o tu bandi zamba o na kata zamba tu zaku zambe la nzambe na moni na kata yvere batuazota di pare do tu bazua anazamba bazua bika bazua delivarance na eko comprende nzambe alubile nga zambe ya idina bala zambe ya papa nanga apotre bolia o ya bonde la pou nanga na moni ma kamwezo salama a na pari tozo fose lo kote batuwao bika bazua delivarance yango na eko ebisa yo kane wozo landanga so ki nzambe yo meka kufa na bonde yo na pombo na ezo 2022 meka nzambe nanga zwa ni mero ana kanatisyo meka nzambe nanga na ebisyo ezali kamwe ya tikotak na zombo na ba gerizo ba delivarance ba form sterile ba ozo a zemi ba cancer ezo li mwa ba trouble ezo longwa forsi mal ezo disparete na zombo na ngona misu na ngay batu maladi ba zwo bika batuwa problem ba ozo a solisyon batuyo yama be ba zwo kango la ma do na mouni nzambe ko sana ebele pa zwo kontinye ko sana yango na bonde yo na kombo na ezo ko dezesperete ko moun na te ko sambe la trosyo lemdi mesej nangye yana pa batuwa desesperete tuwa boku priye moun zwo e lo kote meka nzambe nangay ndego zola nangasiko zwa adres mekredi na dimanche na na servis yana od de spiritualite e lo kwa eti kalibiso na vi se la spiritualite mekredi na dimanche kenzeh servis ezo salama waki doza na san deni nef ri de la poteri na bandeli na san deni na nef ri de la poteri so kwenye mekredi na kenzeh e ama mwa spiritualite e yoni ga moli mwa yaka dimanche et quinzeh na nef ri de la poteri na san deni vien o mounon zamba ousa e la yu partout di sukoza en Europe wana belgique wana allemagne suisse partout kwenye te noter zamba ou yotu wa bonde la mi rakt ezo salama telle mebele so kwenye tazwa na san deni i vien te moine yusko zwa inviter na yu dimanche kwenye zola na sukoza inviter ya dimanche epicerie exotique toute l'Afrique chiglodi vous offre l'alimentation bio en provenance de kwenye tazwa la république démocratique di kongo nalipo parisiana poceà kwenye biyo parisiana poceà kwenye bilo ke outi moukka kwenye m kungən knyea mapaya zamba e altri contattati Claudio, numero 15, courto di rifi, 65.000 tardi, per la prima e la prima volta a Pyrrima, buonaia Toulouse, buonaia Allemand, buonaia Belgique, buonaia Suisse Livraison au premier niveau, ma cambo ya coquine de Château Rouge, Abu Pia Contacte e réservations au plus 33, 47, 58, 29, 62, 48 Exhorti doutou l'Afrique, chez Claudio, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence Exhorti doutou l'Afrique, chez Claudio Bonabo, piquili, gibo a Njoto, Calliou e komi sa papa komo e fatigé Mama bi mamo pepe, papa kefe ti premen ra mondo a komi kon ronfler lo kol angulo ameli sa fond Solisyon e mona ni epayagdoutou l'Afrique, chez Claudio